Oggi andremo proprio specifici su una cosa in particolare, che sono rulli tamburi. Magari ce lo mettono pure dalla regia magica, come c'è il nostro regalo. Le prime volte. Ok, le prime volte ne abbiamo avuto un sacco, la prima volta al mare, la prima volta che abbiamo conosciuto un nostro amico, la prima volta che vi siete incontrati. Questa è una prima volta in tanti frangenti. Però parlando di prime volte, oggi parleremo proprio della prima volta. Sì. Voi vi ricordate com'è stata la vostra? Avete dei ricordi? 1 settembre 2004. Ah, tu sei quel tipo di persona? Ah, lo so, me la ricordo. Ce l'ha tatuato qua, l'ha visto prima. Io mi ricordo la data, è stata terribile. Terribile, beh? Sì, sì, perché sei incapace, non sai cosa fare, avevo tutti i miei amici a casa. Cioè, tipo... Che ti favano veramente. Io ho detto, va bene, sta ragazza, allora tutti va bene, stiamo tra... E hanno iniziato con... Io avevo i bonghi, sai, i tamburelli? Oddio, tipo rito tribale di accoppiamento. A incitare, è stato terribile. Io mi scusavo, scusami, guarda, veramente, non sono uscito dalla camera perché avevo paura. Ah, c'erano erano in casa? Erano in casa, erano in casa. In un'altra stanza a incitare con dei suoni tribali di Shakira, Shakira. No, vabbè, ti prego. Beh, ti sei automesso dei livelli di difficoltà. Sì, poi non potevo riuscire perché ho detto, questa posi pente, se ne va, è finita. E poi mi hanno deciso di farlo in mezzo al fuoco, capito? Per così renderla un po' più piccante. E quindi è stata così. Questa è stata la mia prima volta. Però una cosa carina, invece un aneddoto carino, è che ogni anno, l'1 settembre del 2004, mi scrive un augurio di svergiversario, non so come si può chiamare. Svergiversario? Questa è una cosa, ragazzi, d'ora in poi, se vi ricordate come cristiano la data, iniziate a mandare, cioè abbattiamo questi ponti con la nostra prima volta, svergiversario, buon svergiversario. Miss? Guarda, io posso soltanto dire la città, non posso dire il peccatore, perché è una persona abbastanza nota. Però ci tenivi comunque a farcelo sapere. Sì, certo, sai come sono fatta. Guarda, ti dirò, la mia prima volta è stata un po' così fumosa, era l'estate dell'amore. Sappiamo tutte a che periodo ci stiamo riferendo, quindi ti dirò dei ricordi un po' annuvolati, ma molto fatati, ecco, ti devo dire la verità. Quindi è stata positiva, è un ricordo positivo, o proprio non ricordi niente? Ma guarda, ricordo poco, quel che ricordo è positivo, è un po' un sogno secondo me a volte, sai a volte ci sono delle cose che tu carichi talmente tanto di aspettative che quando succedono poi rimangono nella tua testa un po' come dei sogni, o come dei riti tribali, ecco appunto nel caso di Cristiano. Nessun bongo quindi? Nessun bongo. Mannaggia. Mannaggia. Grazie.